Ciao Carlo, buon cumpleaños! Come è? Come è? Come è? Mi hanno detto che hai fatto soffocare una bambina con una caramella gommosa Qualcuno che fa la ripresa che ci sono magari anch'io nel mio video Grazie 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 No, fai un discorso Allora, prima veniti di carcazzare Ma la mia rapina vaccava si la somma era scusa Ti facevo respirare sempre Il mio fumo, i miei discorsi sulle radio, sulla app E sullo stress che la cura volevo Costattara che, l'importante è veramente no Non succedeva niente Voi, 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 voi. Se vuoi, voi. Ma fai un discorso ca La primavera insiste la mattina Alla mia cucina vedo il mondo totale, sempre diverso, sempre, ogni mattina, fino al giorno prima. E poi mi volta anche un amaro che so schifo, oddio! Ora che finita tu mi dici che non solamente io, che non vedevo niente. Vuoi, 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 e allora te la compi. Vuoi, 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 ma tu che cosa compi? Io lo so da sempre chiaro cosa voglio, ma se vuoi ridurla solo a un'ossessione, cosa ci vuoi fare se è l'indice di gradimento a determinare il mio morale? Sono quel per caso Porsche, quel che conta è che adesso son dentro, sto impazzendo in un ritmo lento. Sto impazzendo in un ritmo lento. Vuoi, 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 e allora te la compi. Vuoi, 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 ma tu che cosa compi? Vuoi, 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 e allora te la compi. Vuoi, 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 ma tu che cosa vuoi? Sai, per te, parlo sempre di te, con i miei amici, i miei amici, i miei amici. Sai, per te, parlo sempre di te, con i miei amici. Sai, per te, parlo sempre di te, con i miei amici. Sai, per te, parlo sempre di te, con i miei amici, i miei amici. Ciao, cazzi, volevo presentare un uomo quasi ideale. Andiamo, facci vedere una caratteristica di uomo ideale. E' tornato caro, un sacco di amici. Guardami, guardami, guardami sempre di te, parlo sempre di te. Questa, non mi piace la patta smontata, Giante, va smontata? Ovviamente tanti auguri, auguri, bis a Raul! È vero? All'è? All'è? Sì. Io dico solo sì. Bravo. Buon compleanno! Grazie, anche a te, Gabbia. Sei il numero uno. Sì. Sei bellissimo e adesso mi ritrovo a Michael Jackson. Questa la taglia. Luca, pseudo giovanile, numero uno. Il risultato è che nell'86 si è laureato. La rabbia, la rabbia, la rabbia. La sfida, la sfida. Ciao, Carlo! Buon compleanno! Yeah! Colonello! Grazie! Che cazzo devo dire? Ciò che rollo è il mio po'.